Una giunta politicamente incapace, sei mesi di promesse non mantenute. Questo il duro giudizio del Partito Democratico di Teramo sui primi 180 giorni dell'amministrazione Brucchi. La minoranza ha parlato questa mattina soprattutto della tasia ai massimi e dei costi di una giunta che conta nove assessori, oltre che dei problemi che ci sono stati di recente in città per il maltempo ed il capodanno. Il bilancio 2014 è un bilancio assolutamente disastroso da parte di questa amministrazione. Un'amministrazione che è stata assolutamente incapace di gestire la macchina amministrativa in un periodo di difficoltà per l'ente comune ma per tutti gli enti locali. Questa amministrazione ha dimostrato tutta la sua incapacità nel ridurre ad esempio le spese, prima e fra tutte le spese della giunta comunale, della composizione della giunta che è ancora al massimo. Nonostante questa amministrazione chieda sacrifici, lacrime e sangue ai cittadini, continua ostinatamente a mantenere una giunta composta da nove assessori all'indennità massima a differenza di come hanno fatto altri comuni e quindi dimostrando di non essere capaci di ridurre quelle che sono le spese improduttive, anche perché questi risultati questa giunta non li ha assolutamente prodotti. A fronte di un aumento della spesa e in particolare della spesa corrente, questa amministrazione nel 2014 è stata capace solo e esclusivamente di incrementare in misura esponenziale la pressione tributaria. Prima e fra tutte la tasi sulla prima casa che se noi rapportiamo all'IMU del 2012, quando i cittadini pagavano la tassazione appunto sulla prima casa, è assolutamente pesante una vessazione per i cittadini in quanto si è applicato un criterio assolutamente inconcepibile, tassazione al massimo e applicando detrazioni ed esenzioni assolutamente irrisorie. Questa amministrazione nel 2014 non ha prodotto nulla in termini di realizzazione di opere pubbliche, intese quali progetti strategici della città. Questa città è completamente ferma, non ha realizzato quelli che erano gli obiettivi fondamentali, pensiamo al recupero del teatro romano, pensiamo...